Ciao a tutti amici di Avriai, un salutone dal vostro Green, continuiamo con le nostre player prediction l'ora per FIFA 15 oggi parliamo di un giocatore che secondo me in FIFA 15 sarà veramente un cannone di giocatore, signori parliamo di Paul Pogba, allora Paul Pogba a parte che contando tutte le partite comprese la fase finale dei mondiali quest'anno ha giocato 56 partite facendo 10 gol e la bellezza di 18 assist ragazzi per cui veramente un centrocampista eccezionale in FIFA 14 ha avuto un upgrade, 3 in form, un international man of the match, un team of the tournament e un team of the season per cui una marea di carte in form, allora lui aveva la carta iniziale era un 79 io parto parlando da quella 81 che ha il suo upgrade 81 ha 75 velocità, 78 tiro, 81 passaggio, 85 dribbling, 77 difesa e 83 colpo di testa per cui già è un centrocampista eccezionale con quasi 3 valori su 6 sono sopra l'80 quello che prevedo io è un 83 barra 84 mi sono tenuto basso perché poi mi dite che alzo troppo i valori speriamo anzi preghiamo che resti alla Juventus nonostante io sia interista ma secondo me questo qua è un giocatore fortissimo un campionissimo e deve restare nel campionato italiano per cui se resta la Juve sono contento lo stesso dicevo 83 analizziamo valore per valore la velocità secondo me potranno aumentarla fino a 79 perché è comunque un giocatore veloce per essere un centrocampista e anche per diciamo il fisico che ha perché è un giocatore alto 1,88 se non sbaglio e fisicamente è anche ben messo però la velocità nelle sue gambe ce l'ha ha un bello scatto ha una grande rapidità di movimento il tiro potrebbe essere portato ad 81 più 3 punti nel tiro soprattutto per quanto riguarda i long shot ha dimostrato di avere veramente la polvere da sparo nei piedi lascerei le tre stelle sul piede debole comunque i passaggi li ho aumentati di un punto soltanto perché diciamo mi piacciono molto i passaggi corti che fa ha una buonissima visione di gioco quindi direi che l'aumento di un punto ci può stare tutto perché già 81 è un valore buono 82 sarà comunque un valore buonissimo andiamo a parlare del dribbling allora io gli ho messo un 86 nel dribbling ho aumentato di un punto anche qui 86 nel dribbling è un valore molto alto già lui aveva 85 nell'upgrade gli metterei però le 4 stelle skill perché a parte tutti i video dove fai numeri in allenamento anche in campo ha saputo dimostrare di avere comunque le abilità per dribblare i giocatori con qualche numero tranquillamente per cui secondo me l'86 nel dribbling è un valore più che giusto con le 4 stelle skill speriamo speriamo la difesa aumenterei di 4 punti i valori che ho aumentato di più insieme alla velocità un bello 81 di difesa lui già ha la sua versione 81 ha già 90 di forza fisica e ha già dei contrasti eccezionali quindi pensiamo un po' a 4 punti in più cosa può diventare difensivamente questo giocatore qua infine il colpo di testa l'ho aumentato di 2 punti un bello 85 per cui adesso se noi andiamo a vedere in generale questa carta qua diventerà un centrocampista veramente mostruoso quasi tutti i valori sopra l'80 4 stelle abilità un tiro della madonna centrocampista che può farvi da centrocampista centrale la difensiva è anche avanzato per cui fortissimo ragazzi questa è la review fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come sempre noi ci vediamo al prossimo video stay barba, stay qualità ciao belli ciao 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 ciao